Alle elezioni amministrative fissate per il 12 giugno mancano poco più di due mesi e a Barletta il dibattito sulla composizione della coalizione di centro-sinistra continua a tenere banco. Dell'aggregazione a sostegno della candidata sindaco Santa Scommegna al momento non fa parte il Movimento 5 Stelle. Ripetuti sono gli appelli all'unità ricevuti dai pentastellati che al momento, pur dichiarandosi aperti al confronto, restano in posizione di attesa. Stiamo, proprio in risposta a questi ripetuti appelli, ci stiamo confrontando con tutte le forze di centro-sinistra, sia a livello locale, sia a livello regionale, sia a livello nazionale, perché chiaramente siamo un capoluogo di provincia, quindi siamo una città importante e la partita, come è noto, non si gioca solo a livello locale, ma ormai ha travalicato i confini locali, come gli interventi di esponenti anche nazionali hanno dimostrato e quindi è in una fase molto delicata e spero prossima alla soluzione. L'eventuale accordo con il PD e le liste civiche attualmente interne alla coalizione si deciderà sui temi. I temi sono quelli fondamentali per la città, dai temi urbanistici ai temi sociali, alla visione in generale di sviluppo che si vuole dare a questa città. Di questo stiamo parlando. Ovviamente i temi e le idee camminano sulle gambe delle persone e quindi anche i nomi e le persone sono importanti. Le possibilità sul tavolo sono diverse. Non dovessero aderire al centro-sinistro o a un progetto con Sinistra Italiana e coalizione civica, i pentastellati potrebbero correre da soli. Di qualche altro progetto è difficile. L'alternativa sarebbe correre da soli, ma al momento le strade sono aperte.